Sicurezza sul lavoro parte da cosenza d'allarme dei vigili del fuoco sulla scarsa bonifica dei loro equipaggiamenti che mette a rischio la salute dei pompieri. Massimo Lanari. Alcuni elmi ormai obsoleti risalgono al 2004 e poi ci sono due giacche, due paie di pantaloni, due di guanti, un solo sottoelmo. Dopo ogni incendio si impregnano di sostanze tossiche, ma i lavaggi avvengono solo una volta alla settimana e così i pompieri, se vogliono salvare delle vite, devono riutilizzare gli stessi abiti, contaminati, mettendo a rischio una volta di più la loro di vita, per poco più di 1300 euro al mese. Parte da cosenza d'allarme sulla salute di una delle categorie già sempre più amate. Una volta il mondo era un mondo naturale, oggi è un mondo tossico, un mondo sintetico, quando brucia e mette particelle altamente contaminanti. Noi abbiamo degli antifiamma, dei caschi, dei sottoelmi, dei giacconi antifiamma, che poi sono quelli che usiamo sia negli interventi, sia nei servizi di vigilanza al teatro e in altri posti pubblici, sono sempre quelli. In questo momento possiamo dire che possono esserci certamente comandanti che hanno delle responsabilità in questo argomento, ma possono esserci anche comandanti che sono lavoratori insieme agli altri lavoratori e come qui difendiamo tutti i lavoratori. I vigili del fuoco chiedono quindi epipagelmenti migliori e un indennizzo aggiuntivo, anche perché a cosenza, come altrove, l'amianto brucia ancora. Basta guardare la città da un piano alto di qualunque edificio, l'amianto è ancora esistente nelle città, ci sono i tetti, basta un incendio che li coinvolga e si sperdo in aree particelle che sono altamente cancerogene.